Avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Buongiorno, cari sorelle e cari fratelli che siete in ascolto sulle frequenze di Radio Beckwith Evangelica o sulla pagina YouTube e Facebook della radio, benvenuti e benvenute al culto evangelico. Questa parola del profeta Gioele ci ricorda che oggi i cristiani e le cristiane festeggiano la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo fatto da Gesù ai Suoi discepoli e alle sue discepole. Un dono che apre davanti a noi un tempo nuovo, il tempo della testimonianza e della speranza, fatta di sogni e di visioni. Ci presentiamo insieme al Signore e Dio nostro che ci accoglie e si rallegra di vederci riuniti nel suo nome, che ci ama ancora prima che noi lo amassimo. Egli ci ha cercati e trovati grazie a Suo Figlio Gesù e oggi ci visita nel Suo Spirito di vita che rinnova tutta la creazione. Riceviamo gioia e pace in questo giorno di festa e nella nostra vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Leggiamo dal Salmo 118 i versetti da 24 a 29. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. O Signore, dacci la salvezza. O Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e risplende su di noi. Legate la vittima della solennità e portatela ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore poiché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Preghiamo. Signore, in questo giorno di festa per la Pentecoste, ti benediciamo perché dai e conservi la vita al mondo, perché ci ami e ci fortifichi. Tu ci hai dato il tuo Figlio, Salvatore del mondo, che ha condiviso la nostra vita, ci ha manifestato il tuo amore e ci ha guariti dai nostri mali. Con il tuo Spirito ci rendi liberi, ci mandi nel mondo, fai abitare la pace nelle nostre vite, ci stringi nel dono prezioso dell'amicizia. Vieni, Spirito del Signore, rendici aperti gli uni verso gli altri. Rinnova la nostra fede, la nostra preghiera, il nostro impegno, così come hai promesso di rinnovare tutta la Terra. Amen. Musica Inizio So far as the lonely mind Every time I feel the spirit moving in my heart I will pray Yes, every time I feel the spirit moving in my heart I will pray I am sorrows and I am woe I am home and I am heartache Hear me, Lord, my blood don't leave me I never feel For I am shy, I am scared Every time I feel the spirit moving in my heart I will pray Yes, every time I feel the spirit moving in my heart I will pray I'll pray Ascoltiamo la parola del Signore come contenuta nel Libro della Genesi al capitolo 11, i versetti da 1 a 9 Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura del paese di Sinear e là si stanziarono Si dissero l'un l'altro Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce Poi dissero Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano Il Signore disse Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola Questo è il principio del loro lavoro Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città Perciò a questa fu dato il nome di Babel Perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra E ancora dal libro degli Apostoli al capitolo 2 i versetti da 1 a 12 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia E riempì tutta la casa dove essi erano seduti Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue Come lo Spirito dava loro di esprimersi Ora a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei Uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo Quando avvene quel suono, la folla si raccolse e fu confusa Perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai gli udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia Del ponte dell'Asia, della Frise e della Panfilia Dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e pellegrini romani Tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi Gli udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'un l'altro Che cosa significa questo? Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della Sua parola Amen Care sorelle, cari fratelli, care amiche, cari amici in ascolto Come possiamo dare un senso al linguaggio di questi ultimi mesi Anzi, di quest'ultimo anno? Penso che ognuna e ognuno di noi abbia sperimentato un certo grado di confusione Ascoltando o leggendo le notizie e i vari aggiornamenti sul Covid Attraverso giornali, televisioni e soprattutto sulla rete Siamo stati sommersi dai numerevoli opinioni che non sempre venivano espresse da esperti E talvolta anche tra gli esperti Vi erano opinioni diverse sull'efficienza delle maschere Sulla pericolosità o meno dei vaccini e così via Per dirla con le parole che abbiamo ascoltato nella Genesi Una confusione babilonese di lingue Si è tentati di desiderare l'uniformità invece della diversità di voci Perché questa diversità di lingue Questa mancanza di uniformità Questo groviglio di voci e opinioni La diversità di opinioni su qualsiasi cosa È l'elemento dominante nei mezzi di comunicazione sociale Tanto che spesso è difficile distinguere tra la verità e le notizie false Un po' di coerenza sarebbe utile per capire meglio cosa sta succedendo Se tutti avessero la stessa lingua Parlassero la stessa lingua Forse il nostro mondo sarebbe migliore O no? La storia della Torre di Babele cerca di trovare una risposta O una spiegazione per questa diversità E questo? Ciò che Dio voleva? Questa diversità di popoli e culture sulla Terra? Bisogna fare un salto nel passato per capire All'epoca in cui nacque questa storia In Mesopotamia erano già presenti delle città Che si erano sviluppate attorno ad una zigurrat Una torre alta tra i 25 e i 30 metri Con diverse terrazze La Torre di Babele poteva essere parte della fortificazione della città Oppure un santuario dedicato ad un dio locale Quello che è essenziale per il narratore E che attraverso la fondazione delle città Viene a crearsi un modello di società Che entra in concorrenza con la società nomade La Torre diventa il simbolo della cultura urbana Simbolo di una società sviluppata E dunque viene vista come una minaccia Inoltre questa società uniforme e monotona Non è più aperta alla diversità Ci ricorda quella che viene chiamata La bolla dei mezzi di comunicazione sociale Siamo sommersi da informazioni che corrispondono alle nostre opinioni Questa bolla è chiusa ad altre opinioni È chiusa ad altre informazioni Naturalmente si può obiettare che la scienza E la tecnologia e le conquiste della cultura Sono state raggiunte solo attraverso uno sforzo comune Dunque cosa avrebbe Dio contro le persone Che realizzano i loro piani Perché questo dispiace a Dio La nostra storia ci dice anche il motivo della costruzione della Torre Acquistiamoci fama Facciamoci un nome Avere un nome significa avere riconoscimento e potere Avere un nome significa avere anche un'identità L'altro può identificarmi E' anche questa paura che spinge le persone a puntare in alto Chi non ha paura di perdersi nello spazio e nel tempo Chi non è attraversato dall'angoscia di essere dimenticato Di non riuscire a lasciare qualche traccia di sé E queste tracce in Iraq sono facilmente individuabili I resti degli zigurat Queste torri o fortificazioni costruite a gradini Di fronte a queste strutture possiamo capire meglio Cosa è venuto in mente A chi per primo ha raccontato il mito della Torre di Babele Torri alte che sembravano raggiungere il cielo Erano opprimenti e spaventose allo stesso tempo La sfera di Dio è minacciata Tanto più l'incontro con Dio è limitato ad un luogo preciso L'uniformità di un racconto unico è spaventoso quanto la Torre Il grigio uniforme della Torre proietta la sua ombra Il colore della diversità e la ricchezza della differenza vengono soffocate E se ci pensiamo bene è proprio il confronto con l'altro L'attrito con ciò che non è simile che fa andare avanti la vita E l'alterità, l'interazione con l'altro che fa avanzare la cultura e l'umanità L'uscita e l'incontro con Dio non avvengono in un luogo fisso L'incontro con Dio avviene nello spazio aperto dell'esistenza umana L'incontro con l'altro comporta sempre il rischio di non essere riconosciuti Perché l'altro o l'altra mi sfidano Mi portano fuori dalla mia bolla di uniformità I cieli di Dio si aprono nell'ampiezza dei miei incontri con gli altri Anche con quelli che vengono come forestieri nella mia terra Ecco perché la torre della monotonia si sgretola Le persone guadagnano spazio per svilupparsi E la monotonia è sostituita dalla ricchezza di lingue e culture Diversità significa quindi un nuovo inizio Uno spazio d'incontro con Dio e con le persone E in questo caso Dio risulta essere colui che in primo luogo Rende possibile la storia e la cultura Abbiamo detto prima che i mezzi di comunicazione Con la loro multitudine di voci Spesso possono essere fonte di confusione Ma questo non è di per sé buono o cattivo Così come l'intervento di Dio nella costruzione della torre Non è raccontato come un'azione punitiva Ma come una presa di posizione di Dio Contro ogni forma di uniformità È un Dio dell'incontro E non del confino È un Dio dello spazio E non della compartimentazione Che si mostra all'opera La torre della monocultura Si sgretola È così che nascono cose nuove Come a Pentecoste Nel racconto che abbiamo ascoltato Pentecoste è l'antitesi della torre di Babele Se vogliamo ne è il completamento Dalle rovine della torre Sorgono cose nuove Persone da ogni angolo del mondo Si riuniscono intorno alla buona notizia della Pasqua Non è la cultura, la lingua o l'origine che uniscono Ma lo spirito di Dio Lo spirito di Gesù Cristo E la Pentecoste è la festa della chiesa Ecclesia significa assemblea Persone chiamate a lasciare la loro zona di comfort E a correre il rischio E a correre il rischio dell'incontro Perché a Pentecoste avviene il miracolo Tutte e tutti si capiscono Anche se non parlano la stessa lingua A Pentecoste la comprensione è indissolubilmente legata Alla buona novella della Pasqua Il messaggio della Pentecoste ci dà la certezza Che non ci perderemo nello spazio che Dio ci dà Al contrario ci offre lo spazio dell'incontro Con l'altra e con l'altro Quindi possiamo lasciarci andare Lasciar perdere la convinzione che dobbiamo farci un nome Lasciar perdere l'idea che l'uniformità Sia anche garanzia di identità Per concludere Qual è allora il senso che dovremmo dare Al balbettio della lingua che abbiamo sentito negli ultimi mesi? Chi sta dicendo la verità? Chi ha ragione nel baccano di opinioni? Ammettiamolo Tutto questo è certamente fonte di confusione Ma d'altra parte è esattamente un segno distintivo della scienza È solo attraverso una moltitudine di opinioni Di pensieri e confronti Che il lavoro scientifico è possibile Certo, vivere nella diversità può creare confusione Soprattutto se si guarda alla grande diversità che regna anche nel mondo cristiano Ma i cristiani non sono costruttori di torri Bensì costruttori di ponti Per costruire ponti Dobbiamo aprire gli occhi Vedere cosa ci separa E non perdere Quelli che sono dall'altra parte del ponte In questo tempo di Pentecoste Siamo dunque chiamati a diventare costruttori di ponti Per coloro che hanno bisogno di noi Ammettiamo 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 e a Ti dare con gloria, Spirito del Signore. Ci raccogliamo insieme nella preghiera. Vieni, Spirito del Signore, a rinnovare il creato intero. Questa terra grida e geme per le ferite che le sono state inflitte dall'umanità, per l'inquinamento globale, per la perdita di specie animali, per il riscaldamento degli oceani. Soffia, Spirito del Signore, sulla nostra umanità e aiutaci a prenderci cura dell'ambiente in cui viviamo, ricordandoci che siamo parte della natura e non al di sopra di essa. Vieni, Spirito del Signore, a rompere tutte le barriere e i confini che ci separano. Il mondo è segnato dagli odi e dai pregiudizi sul colore della pelle, sull'orientamento affettivo, sull'appartenenza religiosa, che generano conflitti, violenze, guerre. Soffia, Spirito del Signore, sull'indifferenza e sul quieto vivere, così che possiamo costruire una società più giusta, dove i diritti di tutti e tutte sono tutelati e dove si possa sperimentare la diversità come una ricchezza. Vieni, Spirito del Signore, sulla tua chiesa e rinnovala. Le nostre piccole comunità sentono di più il peso e la frustrazione della testimonianza evangelica che non la gioia dell'incontro e la speranza che mobilita. L'ecumene religiosa sembra a volte più una babele che una pentecoste. Soffia, Spirito del Signore, e liberaci dalle nostre paure e dalle nostre distanze. Ridonaci fiducia nell'annuncio della risurrezione e fa che l'amicizia e l'amore siano riconosciute come le uniche realtà che possono farci incontrare, accogliere, dialogare insieme, riconciliare. Vieni, Spirito del Signore, nel nome di Gesù il Cristo, che è risuscitato dalla morte e regna sulla storia e sul creato intero. Con Lui, noi e nella tua forza noi preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Esprime, toi qui guide tous les hommes, garde-les pour la gloire du Père, unis-les d'un peuple de la terre, conduis-les par la route qui met nos royaume. Guide-le-nous sur les routes de la terre, conduis-nous vers les hommes, nos frères. esprime, toi qui guide tous les hommes, esprime, toi qui s'ouvre sur le monde, meule-nous de la flamme si claire, purifie tous nos gestes de misère, conduis-les par la gloire du Père, conduis-nous la grâce du Père sur la volle. Guide-le-nous sur les routes de la terre, conduis-nous vers les hommes, nos frères. et esprime, toi qui donne la justice, donne-nous le combat, entre la haine, force-nous à défendre ceux qui peinent, conduis-nous vers les hommes, nos frères. Guide-le-nous sur les routes de la terre, conduis-nous vers les hommes, nos frères. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi. Che l'amore protettore del nostro materno Padre ci vincoli nello stesso amore. Che la grazia celebrativa di Gesù Cristo ci dia coraggio per la festa del Regno. Che la comunione sincera dello Spirito Santo ci unisca e riunisca nella vita in terra e nell'eternità del cielo. Amen.